Marcellino, Donata, Roberto, Cristian, Maddalena, Maria Francesca, Emanuele e Matteo. Una famiglia numerosa, una famiglia speciale, quella che abita qui a Terrossa di Ronca, una delle tante case famiglie dell'Associazione Comunità Papa Giovanni XXIII. Ogni giorno qui si vive l'accoglienza e la condivisione. Qui un vero papà, Marcellino e una vera mamma Donata donano la propria vita, non solo per i propri figli, ma anche per bambini, disabili, persone sole e abbandonate che hanno la necessità di essere accolti ed aiutati. Marcellino, come nasce questa scelta di vita di creare insieme a tua moglie una casa famiglia? Nasce dalla fede, dalla fede in Gesù e nasce sicuramente da una sua chiamata a seguirlo nella vocazione della comunità Papa Giovanni e soprattutto questo desiderio di donarsi a lui tramite i poveri che accogliamo nella nostra casa, nella nostra famiglia. Il desiderio è un desiderio che ho sempre avuto fin da piccolo, insomma. Quello che una volta pensavo che quando mi sposerò, quando avrò una famiglia, non sarà una famiglia, tra virgolette, chiusa, ma una famiglia aperta per essere famiglia anche mamma, papà, insomma, di chi non ce l'ha una famiglia, di chi è più sfortunato di me, insomma. La fatica e l'impegno di portare avanti una realtà, una famiglia così grande, così allargata? La fatica può essere nella quotidianità, nel preparare, può essere nelle cose, il mangiare, così, ma anche a volte la fatica nell'accettare i limiti dell'altro e penso anche gli altri a accettare i nostri limiti, per cui c'è un insieme che si interagisce così. È una famiglia anche composita la vostra? Sì, sì, per noi chi viene accolto, diciamo così, è comunque nostro figlio, lo rigeneriamo nell'amore, questo è il nostro termine. È ovvio, magari, quello più piccolo, se viene accolto una persona piccola, un bambino, così, ha una tenerezza maggiore, un affetto maggiore che una persona adulta, perché comunque siamo umani anche noi. Però poi sono allo stesso livello, per cui si ha attenzioni per tutti, se si vuole bene comunque.